Ogni scuola sarà un'occupazione! Oggi siamo qua come osa nella giornata di sciopero nazionale operaio perché studenti operai sono quelli che possono riaccendere il conflitto in questo paese per non fermare le mobilitazioni che ci sono state durante quest'anno dalle occupazioni di tutta Italia che sono già durante l'autunno e che continuano perché oggi hanno occupato a Bologna e stanno continuando a occupare nel nord Italia. Siamo al fianco degli operai, saremo nel corteo a fianco degli operai contro la guerra, contro il rialzo del caro vita, siamo adesso qui contro l'alternanza che ha portato la morte così come sul lavoro muoiono ogni giorno decine di persone al fianco degli operai perché crediamo che unendo le lotte si possa andare più lontano. Oggi è la giornata 22 aprile, l'abbiamo chiamata figli della stessa rabbia, una giornata in cui lavoratori e studenti stanno nella stessa piazza per rivendicare sostanzialmente le stesse problematiche che vengono colpite. Dalla parte gli studenti con le problematiche riguardanti la scuola, un futuro che darà un lavoro precario, difficile, complicato, con tutte le sfaccettature che questo paese offre alle future generazioni, e dall'altra parte le problematiche odierne legate al mondo del lavoro, dalla questione della precarietà, ma anche molto legate alla questione di oggi riguardante la guerra e le problematiche collegate, quindi l'inflazione, l'abbassamento del potere d'acquisto dei salari e tutte le altre problematiche che conosciamo un po' tutti.